ok, si dovremmo starci, ok si, sto facendo un nuovo programma di registrazione, perché sto facendo proprio il telefono di mia madre, parla un po', eccomi ci sono, usiamo il suo telefono perché mi scarico e non possiamo fare, quindi se ricorda la mia app non andava, quindi ovviamente qui, come vedete non siamo alla 1.17, con noi è uscita la pure la 1.18, ma noi ancora non ci siamo, è una versione poca aggiornata, ma dai, va bene perché si può fare tutte le versioni, quindi si, va bene, vediamo sto mondo, piatto vabbè, voi fate come volete, aspettiamo se si crea, oggi faremo un piccone OP, devo fare tutte le versioni, perché ho notato che nel video della spada OP, ha raggiunto un po' di like, un po' di video, quindi se mi piace, faremo un video uguale, questa volta con un piccone, quindi, prima cosa, intanto, per muovere il command block, come sapete si fa, si prende così il command block, quindi così si fa, un giro che c'è più il command block, inviate e inviterà il command block, la matria è semplice, è uguale al piccone MEGA, ma la spada MEGA è uguale, slash, enchant, slash, mi ho messo male, potete anche non mettermi ovviamente lo flash sul command, enchant, potete scrivere, chiocciola A, oppure il nostro nome, se lo deve fare soltanto a voi, il vostro nome, se lo deve fare a tutti quelli che prendono un piccone, chiocciola A, poi, e qui, si, non mettiamo un altro in cante, fortuna, bene, è già questo che ho fatto, dopo andiamo qui nel chat, scriviamo il comando seguito, qui ho messo il command block perché siamo in chat, command block, command block, command block, output, poi false, questo è fatto, quindi ora, dopo questa cosa, ci prenderà un piccone, e si, che era in mano, verrà subito incantato, e voilà, questo qui è il primo passaggio, ecco perché ancora non è poppy, vabbè in java si fa subito dopo un comando, non è con questi 100 milioni, però in pocket, non è l'ultima, proprio per il pocket, facciamo questo, attendo le mani, vedete, ora abbiamo formato questo, command block, head, e qui scrive, flash, effect, chiocciola A, quindi a tutti i giocatori, poi dobbiamo mettere, aste, no, poi, uno, ok, uno, due, 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 già è finito, ragazzi, poi mettiamo questo come un boccasso, tanto ripetizione, non è pure qui, non è sempre attivo, soltanto questo qui pure sempre attivo, che invece è fatto, ragazzi, questo qui scaverà tutto, ragazzi, tutto, come il piccone dell'infinito, voglio vedere, parlo al cuore con la mia mano, piccone, finito, ragazzi, andiamo in tutto questo, non ha parlato, dai, hai fatto tutto te, scusa, sei bravissimo, comunque ciao,